Ma sì, abbiamo deciso, devo dire anzi, ho accettato l'invito di tanti militanti che mi hanno chiesto di presentare la candidatura al Congresso Provinciale di Fratelli d'Italia, ci abbiamo riflettuto tanto, abbiamo ragionato tanto su ciò che serve a Fratelli d'Italia in questo territorio e abbiamo quindi deciso di presentare una candidatura alternativa, che non è una candidatura contro qualcuno, ma è anzi un modo per lanciare un appello al mondo della destra, al mondo di Fratelli d'Italia, proprio per unirsi attorno all'identità, alla tradizione che proprio questa comunità rappresenta, per dare anche al partito stesso quella dignità che merita, ma soprattutto quella necessità che abbiamo di tanta organizzazione, di tanta presenza sul territorio, che probabilmente in questi ultimi anni è mancata.